Mille metri quadri di puro divertimento, in un contesto completamente immerso nella natura, a due passi dal centro di Voghera. Benvenuti nel parco dell'asilo Cairoli, un grande spazio dedicato esclusivamente ai bambini da 0-7 anni, aperto da marzo a ottobre con una piscina privata, spogliatoi e bagni. Un paradiso verde adatto per feste di compleanni e rinfreschi di ogni genere, con personale qualificato e cucina interna a completa disposizione. Saremo lieti di fornirvi la nostra esperienza anche per allestimenti a tema personalizzati. Contattaci ora senza impegno per maggiori informazioni. Il parco dell'asilo Cairoli ti aspetta a Voghera, in via Fanti d'Italia numero 3.